Ben tornati, ben tornati sul canale. Dunque, ultima amichevole dell'Italia, prima dell'esordio ai campionati europei di Germania. Esordio che ci sarà sabato prossimo, quindi fra poco meno di una settimana, a Dortmund contro l'Albania di Christian Aslani. 1-0 ad Empoli sulla Bosnia-Herzegovina. Una Bosnia priva dei vari Dzeko, Krunic con l'Asinac, con Pjanic ritiratosi dalla nazionale. Quindi, insomma, una Bosnia tecnicamente in rifacimento, in tono minore rispetto a una squadra che già con questi giocatori non era proprio a un livello altissimo. Ma l'Italia che ha faticato, decide un gol, un bel gol del solito, mi verrebbe da dire, Davide Frattesi. Che si candida, dunque, a una maglia da titolare in quello che sarà l'esordio con l'Albania sabato prossimo. Tra le pieghe delle scelte di Spalletti possiamo cominciare a intercettare qualche predilizione, diciamo così. Quindi, innanzitutto, non si è giocato con il 4-2-3-1, visto nella precedente amichevole. Quello del Dallara contro la Turchia, si è giocato con la difesa 3, con Darmian e Calafiori. Ai lati di Buongiorno, perno centrale, a destra, per quanto riguarda il centrocampo, ha giocato Cambiaso, ha giocato Bellanova, scusate, a sinistra Cambiaso. In mezzo Fagioli e Giorginio, tre quartisti, appunto, Frattesi sul centro-destra, Federico Chiesa sul centro-sinistra, Scamacca, prima punta. Diciamo che Frattesi e Scamacca si conoscono da quando avevano, penso, un anno e mezzo e il feeling è sgorgato in maniera naturale. Mi è piaciuto Scamacca, nonostante non abbia trovato il gol, anche per merito di Piric, il portiere bosniaco. Mi è piaciuto Frattesi, che, ripeto, a mio modo di vedere, in quel ruolo funziona meglio, in quel ruolo in quest'Italia funziona meglio rispetto a Pellegrini. E per il resto, Chiesa, sempre rimanendo al tridente offensivo, un po' deludente. Vero che ha piazzato l'assist per il gol di Frattesi, cross di sinistro in mezzo all'aria, ma è pure vero che ha avuto qualche occasione per andare nell'uno contro uno, la sua specialità. Non è un Federico Chiesa brillante, diciamola tutta. Non è Chiesa che tutti noi conosciamo, le scorie di quest'ultimo biennio alla Juve si vedono tutte. È un giocatore che va ritrovato, perché se da un lato è vero che è limitato a livello di opzioni, di scelte, tatticamente non è ottimale. Come letture singole non è ottimale, ma è anche vero che è il giocatore con più sprazzi. Chiesa è un giocatore da uno contro uno, è quel tipo di giocatore che se funziona bene tutto il resto dell'orchestra può risaltare in questo contesto. Un po' come era successo agli ultimi europei, peraltro. Oggi non mi ha convinto per niente, ma è un lungo periodo che Chiesa ha acuito i difetti e diminuito i pregi. E quindi non mi è piaciuto Cambiaso, forse un po' troppo limitato nella sua azione. Con la Turchia quando è entrato Spaletti l'aveva provato alto addirittura nel 4-2-3-1 a destra. Oggi ha giocato a sinistra, un po' limitato, un po' meglio Bellanova, ma niente di trascendentale, che tanta voglia, tanta corsa, molta imprecisione. Anche Giorginio e Fagioli insieme, soprattutto un palleggio più orizzontale che verticale e grosse difficoltà, per carità sono amichevoli, la Francia sto seguendo, sta ancora pareggiando 0-0 con il Canada e quindi ci sta. Questo è stato nell'ultimissima amichevole prima dell'europeo ci sta. È una grande competizione, ci sta avere anche le gambe un po' più imballate. Ecco, per esempio, Darmian e Buongiorno mi sono piaciuti di più. Mi sono piaciuti di più, era più facile forse mettersi in mostra, ma hanno assicurato comunque tranquillità al reparto, solidità, discreta lucidità, un po' meno calafiori, chiamato a ripercorrere in qualche modo le tracce di bastoni. Diciamo, la vera nota positiva della serata è Frattesi, che si conferma arma letale per quanto riguarda le azioni sottoporta, ma non solo, è anche quello che riesce più a legare il gioco tra i reparti, riesce ad ovviare e a equilibrare soprattutto l'aspetto della fase di non possesso, cosa che Pellegrini fa meno quando agisce in quella zona di campo. e non è un caso se poi usciti loro, uscito Giorgino, uscito Fagioli, con Cristante, Pellegrini, Raspadori, poi entrato Folorunce, è entrato Retequi, Retechi al posto di Scamacca, le cose sono andate diversamente, poi è normale quando metti dentro tutti i nuovi. Però ad esempio Di Marco, nonostante l'erroraccio che stava per costare l'1-1, si vede qual è il livello di Di Marco oggi e qual è il livello di Cambiaso, no? a altra pasta, non dico in generale o il valore assoluto, dico oggi Di Marco è un altro livello rispetto a Cambiaso. Dall'altra parte, io sinceramente a Darmian non rinuncerei per restare ai giocatori nerazzurri, a un Darmian così non rinuncerei, soprattutto considerando questo di Lorenzo, poi quinto, Braccetto, fate Vobis, ma secondo me questa nazionale non può prescindere da Armian, non può prescindere da Bastoni, non può prescindere da Barella, questa è la verità, centrocampo vicino a Giorginio, non va bene Fagioli per un motivo, non va bene Pellegrini per un altro, non va bene Cristante per un altro ancora, Foro Luscio a quanto pare, Spalletti lo vedi come uno dei trequartisti, non è stato impiegato il Sharawi, che secondo me merita considerazione invece, e non è stato impiegato Zaccagni, non so se rinunciare a Orsolini, che pure non è un livello eccelso, ma essendo Mancino da quella parte può essere un handicap, anche se hai Raspadori e tutti questi, insomma ce n'hai diversi, ce n'hai diversi. Nota positiva frattesi, dicevo, nota positiva a Darmian, nota positiva a Scamacca, che senza trovare il gol, ha comunque fatto il suo, ha dei colpi che altri non hanno, che Retechi non ha, e manca Barella a questa nazionale, quindi questa ansia nel recuperare Barella, insomma io la giustifico, effettivamente la giustifico, perché forse il centrocampista, è il vero centrocampista fondamentale, perché Giorginho sì, ma puoi giocare con diverse caratteristiche, Barella è quello che ti dà un po' tutto, lì in mezzo, e questo frattesi francamente, faccio fatica a rinunciarci. Diamo l'aggiornamento nel frattempo della Francia, sempre 0-0, minuto 88, Tioram è uscito, Pavar in panchina, ragazzi fatemi sapere, se voi avete visto la partita, come vi sembra questo viatico, verso Aero 2024, per gli azzurri di Spalletti, secondo me ci sono ancora un po' troppi cantieri aperti, in questa nazionale, è vero che Spalletti non ha avuto tutto questo tempo, per lavorarci, qualche defezione, ha penalizzato, però secondo me c'è margine, c'è margine e poi lo sappiamo, l'Italia quando arriva il match, quello ufficiale, quello caldo, difficilmente tradisce, ecco io spero che a Dortmund sia un'Italia diversa, e spero che riparta da frattesi, che secondo me è l'elemento che veramente può dare freschezza, brillantezza, e imprevedibilità, altrimenti ha una nazionale che se devo usare un termine, userei monocorde, monocorde, ecco, all'Italia un frattesi, l'Italia difficilmente può rinunciare a un frattesi, oggi. Un saluto.